la scatola dovrebbe rimanere intatta perché in caso di destituzione borsa è molto più piccola di come pensavo, meglio così cosa c'è che portatele ma che puzza vabbè comunque c'è un buono qualcosa del genere e poi eccola qui ora dobbiamo capire in realtà questo è molto utile perché essendo una cosa professionale è molto complicata da usare e quindi Oddio! No! Questa è un pezzo che mi piace poco! C'è la condenza! Puri! Questa è la cosa principale! Abbiamo quindi il cavetto Si carica la presa di corrente normale Però non è due Questo è questo Questo è questo C'è pure il laccetto per appenderlo alle braccia Addirittura la batteria di riserva Quindi è finito Tutte le modalità Ci sono più sopra Questo per accendere Qui è iniziata Un po' inizio Detta… Di California Dottore Non ci sono forse Un po' inizio Un po' inizio Un po' inizio Sì ok ok allora 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 ora c'è troppa luce però non si vede niente qui c'è l'obiettivo che adesso ora c'è troppa luce però non si vede niente qui c'è l'obiettivo che c'è l'obiettivo che adesso non 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 Grazie a tutti